Novo aggiornamento con il meteo e con le previsioni a cura del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteosette.it. Giuseppe, prima di entrare più nel dettaglio per quanto riguarda le previsioni di questo primo weekend del mese di marzo, vogliamo informare come sempre i nostri telespettatori sulla situazione attuale del tempo. Oggi, primo marzo, inizia la primavera meteorologica, una data convenzionale stabilita dall'Organizzazione Mondiale di Meteorologia che anticipa di 20 giorni l'equinozio di primavera, il quale anche quest'anno cadrà il 20 marzo. Nelle ultime 48 ore la nostra regione è stata interessata da un campo di alta pressione che ha determinato condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature che durante le ore diurne hanno fatto registrare valori piuttosto miti. Nelle prossime ore la pressione tenderà a diminuire a causa dell'inserimento di una modesta depressione che scivolerà lungo la nostra penisola portandosi entro la giornata di sabato sullo Ionio. Pertanto sulla nostra regione, nel corso delle prossime 24-36 ore, ci attendiamo un moderato peggioramento. Scendendo più nel dettaglio, invece, cosa ci aspetta per le giornate di domani, sabato 2 e domenica 3 marzo? Per domani, sabato 2 marzo, avremo generali condizioni di cielo nuvoloso, con associate precipitazioni a carattere sparso, che interesseranno maggiormente le aree a ridosso dei rilievi. Temperature senza particolari variazioni, venti tra debole e moderati da nord-ovest e mare mosso. Per domenica 3 marzo avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con formazione di dense foschie durante la notte e nelle prime ore del mattino, segnatamente nelle vallate e pianure interne. temperature minime in diminuzione nelle aree interne, stazionarie o in lieve aumento le massime, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. E per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, invece, come si svilupperà la situazione? Nei primi giorni della prossima settimana non avremo grossi cambiamenti, tuttavia la circolazione inizierà a cambiare a partire dalle regioni settentrionali, con tentativo di inserimento delle correnti perturbate provenienti dall'Atlantico. Fino a martedì la nostra regione potrebbe essere interessata dal passaggio di nubi innocue in un contesto termico in linea con la media del periodo. De mercoledì, invece, potrebbe concretizzarsi un più deciso peggioramento, ma su questo occorre attendere le prossime elaborazioni numeriche, per cui invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it.